Scoperta appropriazione in debita da parte di amministratori di condomini per 324 mila euro. A Bologna le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a diverse perquisizioni, oltre che nella stessa città, anche nelle province di Ferrara e Ravenna, più un'ordinanza di custodia cautelare, personale e reale nei confronti di un imprenditore della zona. Pare che dal 2017 al 2021 l'amministratore in questione, con l'aiuto della moglie e di un cittadino macedone a capo di un'impresa edile, si fosse legalmente appropriato delle somme di denaro, sottraendole dai conti correnti dei 150 condomini amministrati, per un valore complessivo di 324 mila euro.